salve a tutti dal monte corvino robella in provincia di salerno mi chiamo vincenza maiorino in arte zena sono una pittrice salernitana dunque nel 2014 ho fondato una corrente artistica che si chiama prano art che vuol significare appunto trasmettere energia attraverso i colori attraverso la mia arte pittorica dunque faccio questo video perché voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno selezionata per il catalogo CAI artisti italiani questo catalogo si troverà presto nei musei e nelle librerie d'italia dunque l'ideatore di questo catalogo e che voglio ringraziare per la selezione fatta è appunto Giampaolo Coronas Federico Caloi critico d'arte che ringrazio tantissimo e Angelo Bacci per la collaborazione a questo catalogo c'è anche la bellissima e prestigiosa mostra che si si terrà in una location molto bella è un museo d'arte contemporanea ad Anagni in provincia di Frosinone li porterò e presenterò una mia opera grazie a tutti e alla prossima